ecco tutta la banda dove sta il bambino? si è nascosto? eccolo qua vieni qua, vieni qua ma chiudi, vieni hai combinato? guarda, guarda che hai combinato? niente niente ma in realtà la dinamica me l'ha spiegata molto durante il film ecco, guarda è proprio pietre di rozza non posso dire niente la dinamica noi siamo sbrigati siamo nati proprio sbrigati